Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico i video al giorno, così sarai sempre aggiornato sui nuovi contenuti e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Honda WF750C del 1988. Nella vista di questa moto, che poi vedremo in un'immagine, notiamo spubito due elementi che spiccano e la contraddistinguono da qualsiasi altra moto e sono in particolare il motore quattro cilindri AV e i quattro scarichi rivolti verso l'alto che ne caratterizzano la parte posteriore. Mentre le sovrastrutture sono di una moto di tipo custom, quindi lasciano intendere appunto un tipo di moto che di fatto è una moto tranquilla, come la presenza dell'ampio manubrio rialzato, la sella che naturalmente ha due piani, il serbatoio a goccia con anche una limitata capacità ma d'altronde caratteristica appunto delle moto custom, non si deve però rimanere ingannati pensando che la moto sia una tranquilla moto da custom perché il motore in realtà dispone una potenza piuttosto rilevante. Per quanto riguarda il motore la scelta è anche qui poco consueta per questo tipo di moto è caduto su un quadricilindrico a 16 valvole AV di 90 gradi con il raffreddamento a liquido e la trasmissione finale a catena sigillata. Quindi da questo punto vediamola in questa immagine e ne riconosciamo le caratteristiche, quindi partiamo dal motore che domina sicuramente l'estetica della moto e appunto questi scarichi imponenti, quattro scarichi, sono due per parte naturalmente, rivolti verso l'alto. Lo scarico poi quattro in quattro è di fatto cromato quindi spicca ancora di più e anche i due ammortizzatori posteriori lo sono. Il manubrio è un po' più alto rispetto alle solite stradali, lo vediamo bene dall'immagine, conferisce poi lo stile grintoso, mentre i cerchi molto belli sono in lega leggera. La cilindrata è un motore di 748 cm3, la distribuzione a doppio albero a camme in testa con quattro valvole per cilindro. La potenza massima di 87 cavalli a 9.000 giri al minuto con una coppia massima di 69,6 Nm a 7.250 giri al minuto, quindi come si dice in gergo un motore che spinge forte. Il telaio è formato da un tubolare in acciaio con la sospensione anteriore che è una forcella telescopica con gli sedi a 41 mm e la corsa di 150 mm, mentre il freno anteriore singolo ha un diametro di 316 mm con la pinza e due pistoncini. La sella è alta a 710 mm da terra, quindi anche piuttosto bassa. Al posteriore abbiamo poi il forcellone con i due ammortizzatori regolabili nel precarico della molla. L'escursione della ruota è di 100 mm, il freno è formato da un tamburo da 180 mm di diametro. Le ruote sono in alluminio pressofuso a 5 razze con un diametro di 17 pollici all'anteriore e 15 pollici al posteriore. Il serbatoio è da 13 litri con un peso secco di 229 kg. Se ti è piaciuto il video metti i like, se non ti è piaciuto metti i dislike, iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi ben precisi. Primo è gratuito, non ti costa assolutamente nulla ma contribuisce alla diffusione del canale e ti ringrazio molto. In secondo luogo faccio un video al giorno quindi sarai sempre aggiornato, aggiornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi. Ciao, grazie per l'attenzione e buona serata.